Ciao a tutti, in questo nuovo video vi mostrerò il menu di Verso World 3 e vi anticiperò le modalità. Cominciamo con Battaglia, che sarebbe la campagna, Sfida, che sarebbe il multiplayer, Orda, e Belva, che sarebbe una specie di Orda, però con le locuste. Poi troviamo le statistiche e i premi, dove si segna il personaggio, il livello e le partite giocate. Poi troviamo gli obiettivi, qui gli skin arma, che sarebbero delle mimetiche, i personaggi e dei premi avatar, e anche delle esecuzioni. Qui troviamo gli oggetti della campagna, nascosti, e qui le medaglie. Infine troviamo il Marketplace, contenuto sul menu. Ecco, ci sono numerose cose, alcune gratuite, altre però con un costo, 320, 220, 240. Se volete inviarmi la richiesta, questo è il mio gamerta, MasterKiller43. Ecco, vi faccio vedere, più o meno l'immagine. Ok, questo è tutto. Grazie di aver rivisto questo video, alla prossima.